Oggi parliamo della seconda settimana di crisi Medioriente, con Israele che sta di fatto dettando la linea su quello che deve succedere a Gaza, e non tutti sono contenti di come le cose si stanno mettendo. Parliamo di nuove tecnologie e di come queste potrebbero a breve contribuire a un abbattimento gigantesco del suo riscaldamento terrestre, ma innanzitutto vorrei partire da questo sito, 23andMe. Lo conoscete? Io sono affascinato da questo servizio, ma non l'ho mai provato. È uno di quelli che ti promette, con un'analisi specifica del DNA, di fornirti tutta una serie di informazioni sulla tua provenienza, la tua famiglia, il mix etnico dal quale provieni. Una cosa molto figa. Ma di nuovo non l'ho mai provato, perché non sono a mio agio con persone sconosciute che hanno a che fare con i miei dati, soprattutto se parliamo di informazioni genetiche. E a quanto pare è accaduto qualcosa che in qualche modo mette radici nelle mie paure. Cioè un furto di dati. Un furto di dati a questa compagnia che peraltro non poteva arrivare in un momento peggiore. Come ovvio, il team di 23andMe si è assicurato che tutti i loro utenti, milioni di utenti, cambiassero la password, pur assicurando che tra i dati sottratti non ci sarebbero informazioni relativi al DNA. Questo lo dicono loro, ovviamente. Ma è il perché si sta parlando della notizia che in qualche modo mi ha preoccupato. Perché dalle informazioni che circolano online, pare che potrebbero essere state diffuse informazioni di persone che risultano avere nel loro mix razziale, un qualche tipo di discendenza ebraica. Problema che sino a ieri, nella maggior parte del mondo per l'omano occidentale, non sarebbe stato un problema. Ma oggi, a quanto pare, lo è. Di nuovo. Stanno molto circolando le immagini di una manifestazione che si è tenuta la settimana scorsa fuori dall'Università La Sapienza di Roma, in cui degli studenti fanno ritornelli sull'intifada. Che è peraltro un atteggiamento curioso, perché abbiamo visto come queste cosiddette intifade, cioè gli atti di ribellione nei confronti di Israele, poi colpiscono indiscriminatamente israeliani e occidentali. Non meno occidentali di quegli italiani che sono lì a cantare i corretti. Nel senso, magari ci sta a cantare i corretti mentre sei in Italia al sicuro. Non lo so. Se puoi cantare i corretti sull'intifada, ti mette al sicuro dalle coltellate quando sei lì. Però è una cosa mia, per me è una cosa mia. Bello, ma non è solo l'Italia. L'Europa e gli Stati Uniti si trovano a dover nuovamente affrontare un'ondata di odio etnico innescata da questo conflitto, nei confronti sia di comunità arabe che ebree. Il ministro dell'interno francese Darmanin ha recentemente parlato di un aumento di crimini di odio antisemita. In Spagna e Portogallo accadono episodi simili nelle sinagoghe che vengono imbrattate, iniziano a comparire le prime stelle di David nei portoni delle case per indicare che una famiglia ebrea vive lì, un po' come succedeva durante il nazismo. Questa foto, peraltro, viene dalla Germania, come anche questa e anche questa. Ma dall'altro lato, stessa cosa. A Milano qualche giorno fa un uomo con un corano in mano ha aggredito dei passanti e a Plainfield in Illinois un anziano ha aggredito una donna e suo figlio, musulmani, peraltro in affitto in un suo edificio, ha gravamente ferito lei e ha ucciso lui con una serie di coltellate, un bambino di appena sei anni che difficilmente può essere considerato un pericoloso terrorista. Eppure ha perso la vita. Ovviamente sono episodi che sono sempre accaduti e una vita che vedo stelle di David disegnate sui muri e ho sempre riservato loro la stessa attenzione che ho a lungo dedicato alle svastiche disegnate al contrario e alle minacce sgrammaticate. Ma se cambia il clima cambia tutto. E mentre i vari paesi stringono le regole, in Germania ad esempio è stata messa al bando Samidun, una rete di persone solidarie con il popolo palestinese, che si è messa a celebrare con dolciumi l'attacco di Hamas, in Francia sono proprio state vietate le manifestazioni a favore dei palestinesi e in generale persino il governo israeliano ha chiesto ai suoi cittadini all'estero di evitare di manifestare per non esporsi a un pericolo delle torsioni. E in tutto questo, dicevo, siamo qui a chiederci se gli anni venti del 2000 sono questa cosa qua. Cioè sono un momento nel quale noi pensavamo che avremmo superato certe cose e invece appartenere a una certa etnia, appartenere a una certa religione, appartenere a una certa minoranza può mettere la tua incolumità a rischio anche nel moderno progressista e sicuro occidente. Wow. Una cosa estremamente importante per capire quello che sta accadendo al di fuori del nostro paese però, in opinioni pubbliche che non sono le nostre ma quelle di paesi diversi o degli individui direttamente coinvolti, è capire l'inglese. Su questo non ci piove. E fate conto che noi stessi in redazione tutti i giorni abbiamo a che fare con il lavoro di colleghi esteri, cosa che si lega perfettamente allo sponsor di oggi, che è Cambly. Cambly è infatti una piattaforma online che permette di fare pratica dalle moto del vostro inglese parlato in maniera professionale, perché sarete assistiti in ogni momento da un tutor madrelingua che, attenzione, vi segue personalmente passo passo, parliamo di un'esperienza, completamente personalizzabile, ma soprattutto rivolta a voi, non a una classe con venti persone. E il tutto da casa vostra, da ovunque vogliate, cosa che rende le lezioni estremamente più efficienti e più produttive, sia perché c'è qualcuno che segue solo voi, sia perché vi permette di conversare senza le ansie che possono subentrare dal fare le lezioni faccia a faccia, dal vivo. Cambly è pensato per tutti, sia per chi voglia semplicemente perfezionarsi, sia per chi parta da zero. Stia iniziando adesso a studiare, perché lo sappiamo, oltre che per leggere il New York Times, l'inglese è fondamentale in qualsiasi ambito lavorativo. Cambly è il modo migliore per sfondare quelle barriere e aiutarvi a perseguire l'obiettivo, con costi che, vista la loro architettura, sono di molto inferiori a quelli di una scuola d'inglese tradizionale. Bene, usando il mio codice sconto, che vi lascio a schermo e in descrizione, sapete che i prezzi si abbassano ancora del 50% sugli abbonamenti annuali, che significa che letteralmente li pagate la metà e vi permetterà anche di poter accedere a una prova prima di pensare ad acquistare l'abbonamento. Quindi provate, non sottovalutate questa skill, per quanto mi riguarda è la base. Io purtroppo cestinerei un curriculum automaticamente in assenza di inglese parlato, perché è così importante. E ovviamente poi, se lo provate, fatemi sapere. Parlando di giornali esteri, saprete che non è un'esagerazione dire che buona parte del mondo stia ormai osservando la situazione del conflitto tra Israele e Hamas. In uno stato di tensione in aspettativa al pensiero che, da un momento all'altro, possa effettivamente partire la campagna di terra israeliana verso Gaza, con tutte le conseguenze che questo avrebbe non solo per la popolazione civile, ma anche per il rischio di un allargarsi del conflitto ben oltre i confini geografici dei territori palestinesi. Vale quindi la pena dedicare un po' di spazio per analizzare quale sia al momento la situazione, soprattutto per quanto riguarda le persone al momento più colpite da qualsiasi decisione in merito da parte del governo israeliano, ovvero i civili palestinesi che a Gaza ci abitano. Venerdì, infatti, le forze armate israeliane hanno emanato un ordine di evacuazione per i civili residenti a Gaza City, la città principale della striscia che si trova qui, al nord, e per i suoi dintorni, per un totale stimato di più di un milione di persone, a cui sono state date 24 ore per dirigersi verso sud, con la motivazione, ovviamente, di dare in modo alla popolazione di fuggire e di allontanarsi a causa sia dei ripetuti bombardamenti di cui è stato oggetto la città in questi giorni, sia anche per preparare il terreno per l'eventuale operazione di terra, con il risultato che il processo di questa evacuazione è stato, negli scorsi giorni, disastroso. Ora, rendere l'idea di cosa significhi un esodo di questo tipo per la popolazione palestinese sia materialmente, dal punto di vista pratico e organizzativo, sia simbolico, perché rimanda un periodo buio della loro storia, ora ci arriviamo, è molto complesso, e per darvi un'idea di quello di cui stiamo parlando, credo la cosa migliore sia proprio mostrarvelo. Questa è infatti la striscia di Gaza, ed evidenziata in rosso, è l'area da cui la popolazione dovrebbe allontanarsi, mentre la linea arancione è il percorso di evacuazione, che ha portato e sta portando molte persone verso la città di Kanyunis, qui, ma che prosegue poi ancora più verso sud, verso il valico di Rafah, al confine con l'Egitto, idealmente per permettere alle persone di allontanarsi il più possibile dalla striscia, cioè letteralmente dal territorio che abitano. Il primo problema, ovviamente, è il pochissimo tempo a disposizione che era stato inizialmente dato alla popolazione per allontanarsi da Gaza City, perché è evidente che un singolo giorno per fare evacuare più di un milione di persone non solo non sia realistico, ma porti proprio a comportamenti dettati dal panico e dalla fretta che causano a loro volta altri danni alla popolazione in fuga. Non stupisce quindi che le forze armate israeliane abbiano in seguito fatto dietro front su questa cosa, dicendo che no, non ci fosse in realtà una data di scadenza per l'ordine di evacuazione, anche a causa delle forti critiche che l'annuncio iniziale aveva suscitato. Le Nazioni Unite, ad esempio, avevano sin da subito fatto appello perché l'ordine venisse annullato, giudicando impossibile che un movimento di persone di quelle dimensioni avvenisse senza conseguenze umanitari terribili. Fate conto che parliamo di muovere non solo persone sane e giovani, ma anche anziani, bambini, soprattutto malati, perché anche gli ospedali sarebbero dovuti essere evacuati e l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva a sua volta giudicato impossibile allontanare in così poco tempo persone fragili di quel tipo che sarebbero state sostanzialmente condannate a morte. Ora, questo movimento forzato di persone non è uno scherzo e correva seriamente il rischio di poter essere considerato un vero e proprio crimine di guerra, secondo le leggi internazionali, soprattutto se portato avanti in un contesto in cui i civili sono anche soggetti ad attacchi diretti. Che, insomma, è un po' questo il caso. Le foto di questo esodo sono terribili. La gente si ammassa come può nel retro dei furgoni, portandosi dietro i materassi, i vestiti, gli animali domestici. C'è chi viaggia in un carretto trainato da asini, chi è costretto ad andare a piedi, perché, è ovvio, il carburante nella striscia ormai scherseggia a causa dell'embargo israeliano. Ed è un percorso che, in condizioni ottimali, dura poco più di 5 ore a piedi verso Can Yonis e poco più di 8 verso il valico di Rafa, ma è realistico pensare che ne servono molte di più viste le condizioni della strada. E chi deve percorrerla? Perché, è evidente, dalle immagini proprio si vedono un sacco di bambini. Io, veramente, io non so se voi avete mai avuto a che fare con dei bambini, abbiate avuto a che fare con delle persone anziane, persone da muovere, che non sono... È difficile 5 ore a piedi, 8 ore a piedi. È una situazione estremamente complicata. Mi spingo a dire irrealistica per un certo tipo di popolazione. Di nuovo, pongo molta enfasi sulla questione perché credo sia importantissimo cercare di metterci nei panni di queste persone, che non solo Massa ha cercato di fare in modo non evacuassero, definendo gli avvertimenti dell'IDF come propaganda, a ulteriore riprova del fatto che i cittadini non siano la priorità dell'organizzazione, ma lamentano di dover, dal loro punto di vista, rivivere quella che nella storia palestinese è conosciuta come Nakba, la catastrofe, un evento estremamente traumatico e umiliante nella coscienza collettiva popolare. Semplificando molto, la Nakba è l'enorme esodo che la popolazione palestinese subì nel periodo concomitante alla nascita dello Stato di Israele nel 1948, per quanto gli esodi proseguirono anche dopo, quando la coalizione di stati arabi che aveva attaccato il neonato Stato fu sconfitta e Israele, che aveva vinto la guerra, occupò in risposta grandi porzioni di territorio che sarebbero dovute appartenere secondo i confini alla Palestina, causando un esodo forzato di circa 700.000 abitanti dalle loro case. Quel gesto è in realtà un po' uno dei punti fondamentali delle tensioni, come le conosciamo oggi, e vista quanta attenzione c'è in questo teatro relativamente alle date simboliche, è difficile sottostimare questo tipo di parallelismo. Anzi, è estremamente importante. Oggi come allora, infatti, alla popolazione viene detto che un giorno a conflitto finito potranno tornare nelle loro case, ma molti temono sia solo il passato che si ripete, una seconda Nakba, e quei territori, una volta sotto il controllo israeliano, finirebbero per rimanerci per sempre. Fate conto che alcuni si tramandano di padre e figlio le chiavi della loro vecchia casa, che ormai, realisticamente, neanche esiste più, e questo per farvi capire l'importanza che l'evento ebbe sulla coscienza collettiva palestinese, e quanto l'attuale situazione lo richiami. Una volta arrivati a Can Yunis, peraltro, la situazione è in realtà altrettanto tragica, non solo perché un tale afflusso di persone ha comprensibilmente messo sotto forte stress le strutture della città, negli appartamenti vivono ormai dalle 20 alle 30 persone, con tutte le difficoltà del caso, peraltro nel ripetere cibo, energia e soprattutto acqua, la cui fornitore israeli ha annunciato, dopo averla tagliata, sarebbe stata ripristinata, ma solo nel sud, con lo scopo dichiarato di invogliare quanta più gente possibile a dirigersi in quella direzione, questo peraltro nonostante anche Can Yunis sia stata soggetta ai bombardamenti dell'ADF, per quanto di intensità inferiore. Questa, ad esempio, è una mappa, aggiornata a sabato, che mostra le aree con i danni maggiori, quindi con i bombardamenti più frequenti, e il nord è nettamente più colpito, ma di nuovo, la gente viene costretta a spostarsi, con le minacce o delle bombe o della sete o dell'inedia, in dei territori specifici, che poi comunque vengono bombardati lo stesso. Il che, cioè, arriviamo da soli, non va bene, non va troppo bene, è fatica da quel senso di sicurezza che vorresti avere nel momento in cui c'è un esercito di un'altra nazione che sta arrivando verso di te. Il problema poi si estende non solo a Can Yunis, ma alla stessa prospettiva che la popolazione palestinese possa a un certo punto allontanarsi direttamente dalla striscia, che significa in questo contesto dirigersi, per mancarsi di alternative, verso l'Egitto. Fate conto, infatti, che al momento l'unica via ancora percorribile, sia per lasciare Gaza che per fare entrare aiuti umanitari, è proprio il valico di Rafah, l'unico contatto ufficiale tra Gaza e il mondo esterno. Aiuti umanitari che sono, peraltro, già pronti, ma che al momento attendono di essere lasciati passare, perché il valico è chiuso sin dai primi giorni del conflitto, quando alcuni bombardamenti israeliani nella zona hanno costretto l'Egitto a bloccare tutto, e da giorni ormai sono in corso negoziati tra l'Egitto, appunto, e Israele, mediati da Stati Uniti e Regno Unito, per la riapertura del valico almeno per i cittadini stranieri presenti a Gaza, posto che vengono a fare di passare anche gli aiuti umanitari. Il punto è che si tratta di negoziati estremamente complicati, resi ancora più difficili dalla paura di Al-Sisi che a un certo punto l'esodo dei palestinesi possa finire per interessare anche l'Egitto, spostando sul Cairo, su di lui, la responsabilità di un disastro umanitario che in questo momento sembra praticamente certo. Il tutto ha vantaggio di Israele, perché qui, parlando proprio cinicamente, Israele ha un grande problema, che è quello di generare un casino così grande, un disastro umanitario così ampio, che poi tutta questa operazione finisce per rivoltarsi contro Israele stessa. E questo non se lo possono permettere, specie in un momento in cui buona parte del mondo si sta dimostrando solidale nei loro confronti. Ma il punto è che, in mezzo a tutto questo, continua ad esserci la popolazione civile, i cui numeri fatichiamo anche a comprendere, perché milioni di persone costrette a essere progressivamente più compresse, più strizzate in aree di terreno, che si riducono progressivamente, con l'incertezza se mai un giorno potranno ritornare a casa, o troveranno una casa ancora in piedi, una normalità, il loro lavoro, e il tutto nella nostra incapacità, della comunità internazionale, dell'Occidente, di non solo poter fare qualcosa per loro, ma anche solo di comprendere cosa significhi per un intero popolo e per il suo futuro in qualcosa di questo tipo, visto che noi, come Opinione Pubblica, continuiamo a dibattere su chi abbia ragione, chi abbia torto, quali siano le ragioni storiche che portano a questo conflitto, chi siano i più brutti e i più cattivi. Ma non è così. Non è così per la stragrande maggioranza delle persone che questa cosa la stanno vivendo. Perché è la loro vita e non la nostra. Ed è qui tutta la differenza, non è tutta qua la differenza. Che noi, questo evento, non lo stiamo vivendo. Lo stiamo soltanto guardando. Per chiudere oggi ci spostiamo in Svezia, perché il paese sta concentrando i suoi sforzi per cercare di ridurre le emissioni di metano. E lo vuole fare non solo in settori come quello energetico, ma anche in quello agricolo, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione quotidiana delle mucche, che è un grosso problema. Parliamo spesso di questa cosa. Le mucche. Per fare un punto della situazione delle emissioni, è stato pubblicato un rapporto condotto dall'Agenzia Svedese per la Protezione Ambientale, dove si analizzano e si studiano metodologie efficaci per poter ridurre appunto le emissioni del metano, un gas a effetto serra responsabile peraltro di circa un terzo del riscaldamento globale, che è presente come sottoprodotto di svariati settori produttivi, tra cui, immagino lo sappiate, anche se spesso la portata del fenomeno è sottostimata, il settore primario, quello cioè che include agricolture e allevamenti, settore che nella sola Unione Europea causa il 53% delle emissioni. Non so se ci siamo capiti. Il 53% delle emissioni europee. Settore primario. È una cosa fuori di testa. Ora, la quantità e i livelli di metano nell'allevamento sono influenzati anche dal cibo che mangiano le mucche, perché è durante la digestione che avviene la formazione del metano che viene successivamente liberato. E in questi termini il rapporto suggerisce un miglioramento tecnico che è potenzialmente rivoluzionario, cioè l'utilizzo di particolari additivi per l'alimentazione delle mucche, che comporterebbe una notevole riduzione delle emissioni di metano. E tra gli additivi indicati dall'agenzia svedese ci sono le alghe. Che vuol dire diamo da mangiare le alghe e le mucche? Sì, più o meno. Il rapporto infatti analizza come il rapido sviluppo sul campo di nuovi additivi abbia permesso alla Svezia di individuarne alcune varietà con potenziale elevato, tra cui quello a base di alghe rosse, che, se introdotte nell'alimentazione quotidiana delle mucche, potrebbero ridurre le emissioni di metano fino al 90%, modificando proprio i processi digestivi nello stomaco dei bovini. Ovviamente il 90% è una percentuale altissima, e benché prometta molto bene, la ricerca nei confronti di questo determinato additivo è ancora in fase di studio, in quanto è necessaria una conoscenza più approfondita prima di approvarne l'utilizzo. Al contrario, un altro additivo a base di un composto organico, il 3-nitrossipropanolo, che è stato invece già approvato dall'Unione Europea, al momento solo per le vacche da latte, secondo le analisi effettuate, ridurrebbe le emissioni di metano del 30% nelle vacche da latte e del 45% per quanto riguarda i bovini da carne. Quindi sensibilmente meno, ma lo rende comunque una cosa interessante, perché certo non è il 90%, ma è comunque il 45%, è tantissimo. Ovviamente, ed è sempre qui il dilemma quando si parla di miglioramenti al sistema produttivo di cui beneficeremmo tutti quanti, questo cambiamento avrà eventualmente un costo, e bisognerà capire chi debba farsene carico, e anche quanto complesso potrebbe essere rendere un certo punto obbligatorio l'utilizzo di queste pasture. Al netto dei risultati sul campo di questi additivi decisamente efficaci o promettenti, come nel caso delle alghe, questi additivi sono anche costosi, perché necessitano di essere a loro volta prodotti, su larga scala, c'è tutto un tempo in cui i produttori devono organizzarsi, è complicatissimo. Fate conto che al momento il prezzo di questi nuovi additivi è così alto che parliamo anche di 100 euro in più a mucca, e questo si ripercuote, di conseguenza, anche sulle spese dei produttori, che probabilmente non saranno contenti, nel caso, eventualmente. Ovviamente, come dicevo, i prezzi a un certo punto si abbasseranno nei prossimi anni come la produzione dovesse assumere volume di scala, ma nel frattempo parliamo di una transizione estremamente complicata, perché è ancora oggetto di studi, peraltro. Ad esempio, c'è un progetto che coinvolge 50 aziende distribuite tra Svezia, Germania e Danimarca, e basate sulla somministrazione di magime con l'additivo a base di 3 nitrosipropanolo a una platea di circa 10.000 mucche da latte. Ed in un certo senso, il fatto che anche altri paesi europei stiano in qualche modo provando a ridurre le emissioni di metano amplifica il discorso non solo alla Svezia, ma all'intera Unione Europea, dato che tutti questi sforzi convergono verso il Global Methane Pledge, sottoscritto anche dai paesi dell'Unione, che mira a ridurre le emissioni globali di metano entro il 2030, che è tipo dopo domani. Di nuovo comunque, questo è il tipico esempio di avanzamento tecnologico concreto e realistico, che, in quanto concreto e realistico, scontenterà tutti. I produttori non saranno contenti per le eventuali nuove normative, e si opporranno. I consumatori non saranno contenti se vedranno un aumento del costo della carne, e riesco già a prevedere una serie di critiche che spazieranno da quanto poco naturale sia modificare le pasture delle mucche con additivi, anche se lo sia sempre fatto, alla questione legata all'etica del consumo della carne, che non viene minimamente toccata. Anzi, se trovassimo un modo efficace per abbattere del 90% le emissioni delle mucche, senza dubbio finiremmo per allevarne ancora di più. Fa parte del processo, immagino, ma è comunque una notizia interessante, giusto più ricordarci che nel caos completo che sembra circondarci, nella disperazione in cui molti finiscono quando pensano al futuro del nostro pianeta, un sacco di cose invece si muovono e migliorano. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, mi raccomando, Cambly, dateci un occhio, provatelo, fatemi sapere come va, e al solito un ringraziamento a tutti gli iscritti a Breaking Italy che sostengono il nostro lavoro, finanziano il nostro show, e supportano tutto il lavoro che c'è dietro ogni singola puntata, ogni singola cosa, ogni singolo podcast, ogni singolo post. Quindi, grazie mille a tutte, grazie mille a tutti, fate i bravi e fatele brave, e ci vediamo domani.